Finalmente l'elicottero munito di sensori termici, magnetometrici e radiometrici sta per intraprendere l'esplorazione del sottosuolo occidentano, lo fa sapere il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello sul suo profilo Facebook. In data odierna, sottolinea Castiello, mi è stato comunicato dal Ministero dell'Ambiente che nei prossimi giorni inizierà il sorvolo del Cilento con l'ausilio di mezzi aerei specializzati che avranno l'obiettivo di rinvenire probabili interramenti di rifiuti nel sottosuolo. È una notizia che aspettavamo da tempo e che personalmente ho sollicitato più volte al Ministro Sergio Costa, il quale si è dimostrato sin dal primo momento sensibile a questa delicata questione. Sono anni che si rincorrono sospetti e testimonianze su probabili e temuti interramenti avvenuti nel nostro territorio in occasione di opere pubbliche, dighe, strade, ponti. E finalmente, grazie al coraggio di persone che non hanno avuto paura di denunciare quel che hanno visto o sentito dire, siamo giunti al punto di partenza di indagini serie e capillari sui nostri territori. Faccio appello, sottolinea Castiello, a chiunque possa fornire notizie utili per l'individuazione di sotterramenti illegali, di comunicare le informazioni necessarie agli organi di polizia giudiziaria, favorendo la completezza e l'efficacia delle indagini. Circa i rifiuti sotterrati per una superficie di 50.000 metri quadrati a Balloscalo, nel comune di Salento, si è in attesa giorni dei risultati delle analisi dell'ARPAC che ci riserviamo di rendere noti al più presto.